Ciao cari e benvenuti in un nuovo video, benvenuti soprattutto in una nuova puntata della mia rubrica dieta insieme, anzi dieta della nostra rubrica perché ormai sono settimane, anzi abbiamo iniziato da quest'estate appunto a prendere queste settimane come spunti, come idee per seguire un'alimentazione sana. Io ogni settimana prendo il mio foglietto e le mie note del telefono, inizio dall'odd alla domenica, organizzo, provo, ricette, cose insomma e poi eccomi qua, mi ritrovo a consigliarvi tanti abbinamenti tra alimenti che possiamo fare per cercare di mangiare con gusto ma allo stesso tempo stare anche in forma. Per chi non mi conoscesse io sono Erika, ho 26 anni, ancora per poco perché il primo dicembre ne farò 27 e diciamo che negli ultimi anni ho perso circa 20 kg. È stato un percorso molto lungo, molto lungo perché? Perché sono stata io a decidere di prenderlo con calma, di vivermela serenamente, ho sempre provato di ate lampo, insomma tutto sbagliatissimo perché come perdevo 2 kg ne riprendevo 4. Quindi alla fine restavo non solo da capo a 12 ma dovevo levare più di quanto dovessi levare già in precedenza. Un giorno mi sono svegliata e ho deciso basta, inizio semplicemente a mangiare sano, quindi ho iniziato a prendere ispirazione da delle vecchie diete fatte da nutrizionisti dove appunto c'erano le grammature, tutto apposta per me, però c'erano degli abbinamenti, delle cose che a me proprio non piacevano e di conseguenza non piacendomi quello che stavo mangiando non riuscivo neanche a durare nella dieta. Quindi ho preso carta e penna e ho iniziato a scrivere la mia settimana ideale e mi sono iniziata a chiedere quali sono le cose che ti piacciono, i piatti che ti piacciono. Ok, ti piace non so la carbonara? Ok, va bene, facciamo una carbonara, magari light, come ad esempio pasta, carboidrati, uova, proteine e zucchine, verdure. Quindi diciamoci leviamo lo sfizio della pasta e la carbonara però cercando di mangiare sano e di non mangiare quella carbonara pesantona, ovvio non è la stessa cosa eh, però magari la carbonara quella vera ce la mangiamo il sabato sera con gli amici o con la famiglia a casa. Mentre durante la settimana proviamo un po' a ingannare la nostra mente con questi piattini light, veloci e soprattutto sani. Beh, io direi di iniziare perché non vedo l'ora, sono già pronta qui con il telefono, vai con l'intro. Eccoci qua, allora prima di iniziare voglio fare una piccola promessa che in realtà faccio sempre. Per quanto riguarda la colazione, la merenda, vi do dei spunti giù nel box informazioni dove potete prendere delle idee perché facendo diciamo dei sondaggi ho capito che ben o male le persone fanno sempre la stessa colazione. Quindi diciamo vi do qualche spunto, poi ben o male insomma vi potete regolare voi. Poi se è una cosa che insomma vi pesa non avere anche idee fisse per la colazione, io posso darvele tranquillamente eh. Un consiglio che voglio darti è stoppa un attimo il video, prendi carta e penna e mettiti comoda perché sto per darti un sacco di idee per la prossima settimana da lunedì alla domenica. Quindi devi essere preparata. Ma partiamo con il lunedì. Per pranzo riso con gamberetti e zucchine. Mamma mia che buono ragazze. In alternativa al riso normale o al riso basmati potete provare ad esempio il riso rosso perché è ricco di fibre e sali minerali, poi è molto saporito e sazia anche. Poi andiamo alla cena, filetti di merluzzo con pomodorini e olive. Ha costato una bella melanzana, due zucchine, un peperone al forno, praticamente prendete tutte queste verdure, le fate a pezzettini e le mettete su una teglia, magari stesa su della carta forno almeno non si attaccano. Lo spargete con un olio, pangrattato, qualche spezia e mettete al forno. Vi garantisco che è una ricetta buonissima, soprattutto veloce. Considerando che il pangrattato ce ne va giusto un cucchiaio, secondo me potete tranquillamente mangiare anche ancora del pane. Non lo so, io ragazzi vi dico sempre in base a quello che mangio io. Magari per il mio fisico basta una fettina di pane, per il vostro ne servono due. Questo non ve lo so dire con esattezza. Sicuramente le grammature non ve le posso dare, perché quello purtroppo cambia da fisico a fisico. Io magari ad esempio mangio 50 grammi di pane, 70 grammi di pasta, però magari per voi non va bene. Quindi quello è importante che voi sappiate insomma che le grammature possono cambiare da persona a persona. Passiamo al martedì. Per pranzo pasta e broccoli, preferibilmente quelli romani, non perché sono di parte, ma perché semplicemente sono di stagione, con un cucchiaio d'olio, aglio e peperoncino. Per secondo una scatoletta di tonno con un po' di dieta, magari mescolate tutto insieme. Poi per cena siamo arrivati alla cena del martedì. Nella scorsa puntata di dieta insieme, non so come, o mi sono dimenticata di dirlo ragazzi, o non l'ho letto proprio, non lo so, forse l'ho tagliato durante l'editing del video, praticamente mi sono scordata il martedì cena, quindi scusate, eccomi qua. Questo martedì sera c'è e adesso vi lo dico subito, orata al forno. Visto che adesso non è più estate, ho cercato di mettere più piatti caldi e non freddi, e comunque insalate e cose così. Orata al forno con patate e carote lesse, condite con due cucchiene di olio, limone e sale, origano a piacere. Ovviamente io di solito quando mangio le patate non mangio il pane, perché cerco comunque di scegliere un tipo di carboidrato, nel senso non è che mangio pane, pasta, ok, patate, le scelgo uno e basta. Comunque se non vi piacciono le carote lesse potete secondo me anche aggiungere un paio di zucchine per rendere tutto più buono, tanto non è un problema se come spunto, come idea vi do magari le zucchine più di una volta al giorno, perché secondo me è una verdura talmente versatile che secondo me si può mangiare anche più di una volta al giorno, dai, io le mangio veramente spesso. Poi mercoledì, pasta a ragù bianco con piselli, quindi io qui mi sono anche segnata il procedimento che faccio, di solito ve lo leggo, cuocere il ragù con un po' di brodo, aggiungere i piselli e cuocere sempre con brodo, poi aggiungere sale, pepe, spezie, cipolla e parmigiano. Abbiamo carboidrati che è la pasta, i piselli che sono verdure e infine il ragù che sono proteine. Poi per cena melanzane alla parmigiana light, anche in questo caso mi sono scritta, mi sono appuntata per dirvi esattamente come le faccio io. Allora grigliare innanzitutto le melanzane, poi preparare in un pentolino un sugo leggero con due cucchiai d'olio, basilico e aglio, comunque per dare un po' di aroma. Se preferite potete anche mettere l'olio direttamente a crudo, io lo faccio spesso, dipende poi. Poi vabbè ci accosto 50 grammi di pane, ma vabbè vedete voi insomma le grammature. E due cucchiai di parmigiano e 50 grammi di mozzarella light da aggiungere poi sopra come condimento finale. E poi vabbè io ci accosto anche del pane, ne mangio sempre circa quella quantità che vi ho detto prima. Giovedì per pranzo risotto con funghi, zafferano e ricotta. Di solito ne mangio circa 100 grammi e prendo quella di mucca. Una cosa che potete fare è dividere i piatti, cosa che vi dico spesso, ad esempio magari vi mangiate, non so, il riso soltanto allo zafferano. E poi a parte per secondo potete mangiare la ricotta con dei funghi. Giovedì per cena frittata. Io di solito quando faccio la frittatina soltanto per me utilizzo due uova. Comunque frittata con spinaci. Gli spinaci li ho già lessati e poi li metto insieme comunque in una ciotolina con l'uovo. Vado a condire con un po' di olio, un pizzico di sale, un po' di parmigiano, vado a mescolare e faccio la mia frittatina. Poi ci accosto oltre 4 gallette di farro perché quelle di riso e di maessa a me non piacciono ragazzi. Non ci riescono, mi vanno proprio ne giù nessuno. Oppure un pacchetto di crackers o del pane di nuovo. Oppure se è una cosa che vi piace potete anche rimangiare il riso. Secondo me un piattino di riso in bianco con un po' di parmigiano tranquillamente. Magari non mangio del pane. Ci sono stati dei giorni in cui sinceramente ho mangiato riso sia a pranzo che a cena. E comunque ha funzionato perché mi gonfiava. Ero sazia ma allo stesso tempo alla fine non è che avevo mangiato chissà che era del riso in bianco. Venerdì a pranzo insalata di orzo con tofu. Molto interessante da aggiungere in questi piattini un po' freddi. Che poi vi ho detto che alla fine ho messo pochissimo di patti freddi. Insalata di orzo con tofu, olive e pomodorini. E vi consiglio anche di comprare la rucola e di aggiungerla dentro a pezzettini. Dà un sacco di sapore e arricchisce ancora di più il piatto. E poi andate a condire con un bel cucchiaio d'olio. Oppure come idea un bel cucchiaio di pesto. Poi qui secondo me potete anche mangiare qualche mandarino, qualche frutta di stagione. Senza esagerare troppo eh perché tanto dopo c'è la merenda insomma. Poi per cena venerdì seppie con piselli e del pane. Sabato, vabbè il sabato, il sabato sera è secondo me, cioè perlomeno per me è sempre stato un pasto super libero. Ho evitato durante la dieta anche di bere la coca cola tant'è che pensate prima ne bevevo tantissima durante le cene compliane. Adesso nonostante comunque io sia già arrivata al mio peso forma. Non lo so ho perso un po' questa abitudine che da una parte è una cosa positiva. Ne bevo giusto mezzo bicchiere così a fine pasto per digerire. Però insomma ne bevo proprio poca poca e poi mi mangio sempre la pizza. Però insomma a voi non so qual è la cosa che mi piace di più. Per pranzo vi do due opzioni che secondo me sono valide e leggere. Allora la prima è un po' di verdura che sia uno spinaci o pieta. Insomma una verdura che vi piace ecco che vi attira, che vi può saziare. Insieme a uno sgombro che magari lo sbriciolate diciamo dentro la verdura, fate tutto insieme. Con un pacchetto di crackers. La seconda alternativa invece è del petto di pollo fatto in padella con un pochino di curry. Un bicchierino di latte, ma neanche se è solo per voi secondo me è anche mezzo bicchierino. Insomma dipende quanto sono grandi i vostri bicchierini da caffè. Il mio è bello largo quindi secondo me va bene, il mio è anche mezzo. Però insomma vi regolate con un pochino di latte e un po' di curry. E sicuramente il petto di pollo è molto più buono piuttosto che fatto così alla griglia. Sempre accostato con una verdura. E poi per merenda mangiate un frutto con un uochi yogurt, almeno anche quello che aiuta molto a saziarvi ed arrivare a cena che non vi state morendo di fame. Ma sicuramente non vi riempie così tanto da non godervi poi la cena. Allora domenica a pranzo una bella spaghettata con le vombole. Cucinate magari un po' light che non esagerando con l'olio. Poi per secondo calamari alla griglia con due cucchiai di olio, limone e prezzemolo. Per cena invece facciamo una cosa super sfiziosa secondo me, ovvero le polpette di verdura senza uova. Con spinaci, patate e carote. Due cucchiaini di pan grattato, spezie, parmigiano, sale. Con un po' di prosciutto crudo oppure cotto, insomma quello che vi piace di più. Oppure magari un po' di bresaula su un letto di rucola. Abbiamo terminato anche questa settimana. Io spero veramente che vi sia piaciuta. E che soprattutto abbiate preso carta e penna per prendere spunti. Se no dovete, se fosse ricominciare da capo. Anche perché giù nell'info box non ho scritto queste cose. Ho scritto soltanto riferimenti a colazioni e merende come vi ho detto prima. Perché mi piace proprio che questo video sia un video interattivo. E non scrivendo, quindi voi magari dovete scrivere mentre io parlo. Questa cosa insomma mi piace. Magari a voi rompe le scatole, non lo so. Però è una cosa che mi piace un sacco. Perché sembra praticamente che siamo insieme in questo momento. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video. Se le idee e spunti di questa settimana vi sono piaciuti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come sta andando. Se queste idee vi stanno aiutando. E mi raccomando se non siete ancora iscritte iscrivetevi al canale. Io vi aspetto anche su Instagram. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ovvero domani.